la figura di rembrandt ha un significato straordinario non solo per l'epoca barocca ma per l'intera storia dell'arte immenso successo e rovina economica carriera sfolgorante e caduta sociale questi i tratti distintivi di un'esistenza che si è elevata a una statura mitica alla fama di cui il pittore godette in vita contribuì il suo intenso sguardo da ritrattista che posandosi sull'io o sull'altro produsse celebermi ritratti di gruppo a ogni modo rembrandt per il pubblico è noto soprattutto come ritrattista ed è solo molto di recente che i suoi paesaggi hanno cominciato ad attirare l'attenzione di certo come il grande fiammingo peter paul rubens anche rembrandt ha dipinto disegnato inciso pochissimi paesaggi e delle 15 vedute un tempo attribuitegli oggi circa la metà sono state scritte ad artisti della sua cerchia è cruciale il fatto che queste poche testimonianze rappresentino le opere più realistiche e fantasiose dell'arte olandese del XVII secolo e costituiscono i punti più alti e affascinanti del genere la cosa che resta da chiarire è il motivo per cui rembrandt di fatto si sia dedicato al paesaggio solo dopo la morte della moglie avvenuta nel 1642 e per appena un decennio forse queste tematiche gli diedero un'opportunità per elaborare o sopportare il lutto tesi molto fantasiosa a prescindere comunque dalle motivazioni di rembrandt i risultati furono straordinari il dipinto che qui vi propongo conservato nel museo di braunschweig in bassa sassonia è il paesaggio di più ampia portata mai realizzato da rembrandt sull'altura a sinistra la luce chiara mette in risalto una città con una chiesa alberi in lontananza e un ampio fiume che crea un'imponente cascata davanti alla città la corrente scrosce sotto il ponte attraverso le cui arcate filtra la luce e che presenta sulla sommità un edificio in rovina a destra si estende un'ampia pianura che termina in una catena montuosa all'orizzonte anche la vallata è caratterizzata da una profusione di dettagli che però non le impediscono di convogliare una visione d'insieme grandiosa e magniloquente il cupo cielo carico di nubi la cui drammaticità va crescendo in diagonale verso destra stabilisce l'equilibrio armonico rispetto agli accenti luminosi della parte sinistra del dipinto qui il paesaggio si comprime e si spiega ai fini della storia della trasmissione di un messaggio in cui si misurano i fenomeni naturali e le opere dell'uomo mentre le rovine non lasciano dubbi su chi sia il vincitore se il video ti è piaciuto metti un bel like lasciami un commento condividilo con i tuoi amici ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video ciao